. Alessia Marcuzzi, ma ste gambe lunghissime? Ricorda Sharon Stone nel remake di Basic Instinct, che gambe! Favolosa, 98 centimetri di gambe! Sono solo alcuni dei commenti entusiastici sul web. Il confronto con Sharon Stone è veramente azzeccato. Alessia Marcuzzi emana un magnetismo sensuale che travolge letteralmente gli ammiratori. L'espressione seria la rende ancora più conturbante. Un sex appeal che buca lo schermo e travolge il web, Alessia Marcuzzi accende il gossip. Non solo le gambe lunghissime, ma una sex appeal elegante e hota allo stesso tempo. Lo stesso magnetismo che la fascia Nikon trasmette nelle sue performance televisive. . Peccato che ultimamente sembra che si sia eclissata e la sua mancanza si sente, e come? Bellissima ma quando torni in tv? Ci manchi un abbraccio forte commentano i fan. Alessia Marcuzzi News, una professionista vera. . Gossip, senza nulla togliere a Ilari Blasi, Alessia Marcuzzi è una professionista della tv. In gergo tipicamente televisivo, un vero animale da palcoscenico. Grintosa, effervescente, scherzosamente ironica, ma mai offensiva. Insomma c'è Safa. . Per non parlare della sua spontaneità e del suo entusiasmo contagioso. Alessia è un'autentica veterana della conduzione, partecipe delle varie situazioni, ma sempre con grande umiltà, sensibile e semplicemente meravigliosa. . Peccato che i vertici di media se tengano in panchina una simile risorsa, Alessia ha veramente tutto ciò che ci si aspetta di trovare in una conduttrice, esperta di moda, versatile e stroversa, perfezionista all'estremo e stacanovista ed oltranza. . Il pubblico non vede l'ora di rivederla in tv. La professionalità di Alessia Marcuzzi è una garanzia di successo ma anche di Bonton. . 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 Grazie a tutti.